E' un momento d'oro per Luca Magni, chi ti scherma Pistoia, che in meno di una settimana ha ottenuto due risultati di enorme prestigio sia fra i veterani che in campo assoluto. Il primo grande risultato è arrivato dalla Francia, da dove Magni, impegnato nei campionati europei over 50, è tornato con la medaglia di bronzo, un risultato che lo conferma ai vertici continentali dopo l'oro del 2015 e il quinto posto del 2017. Il vero esploat è però arrivato pochi giorni dopo, a Palermo, alla finale dei campionati italiani assoluti. Già felice per la qualificazione fra i migliori 40, mai successo ad un atleta ultra cinquantenne, Luca Magni, che di anni ne ha 55, si è arrampicato fino alle soglie della finale a 8, chiudendo la gara con un eccezionale sedicesimo posto. E qui vediamo la stoccata decisiva. Con questo risultato lo spadista Pistoiese ha chiuso la stagione in un eccellente 29esimo posto nel ranking italiano assoluto.